da sera, le vedremo, beh se potete immaginare che prima erano a questa occasion ed erano così potete immaginare quanto saranno belle in abito da sera allora io mi porto qui di nuovo sulla mia sinistra il nostro Pino Zagari è pronto per la musica e allora andiamo a chiamare in abito da sera la numero 2 Deborah Doria 16 anni, di Imperia e con il numero 2 in passerella c'è Deborah Doria gli applausi veramente non tratteneteli lasciate che il cuore si trasmette alle mani Deborah Doria, 16 anni, Imperia, a Riete numero 3 Curzia Tortorella 16 anni, di Taggia musica curzia Tortorella 16 anni, di Taggia Iana Martini 25 anni, di Isola Bona Iana Martini con il numero 5 è il momento di Cecilia Alfossi 17 anni, di Sanremo Sicilia Alfossi ed è il momento del numero 6 Chimeliana Fotis 18 anni, di Bordighera con il numero 7 e con noi Vittoria Scarfò 16 anni, di Bordighera 17 anni, di Taggia 18 anni, di Eva Vittoria Scarpò Con il numero 8 è il momento di Alice Dercole 25 anni di Riva Ligure Sì, fate sentire pure i vostri applausi se gradite Alice Dercole, grazie Alice È il momento della numero 9, Chiara Cerro 21 anni di Riva Ligure Chiara Cerro È il momento della numero 10, Veronica Bulicano 20 anni nel Principato di Seborga È il momento della numero 10, Veronica Il momento della numero 10, Veronica Chiara cercherà L'uomo Di inizio Inizio E' il momento del numero 11 signori, Sara Basini 16 anni di Imperia 16 anni di Imperia 16 anni di Imperia 16 anni di Imperia Un bel applauso signori, abito da sera per noi Un bel applauso per le nostre bellissime, giovanissime ragazze Veramente Per questa finale stratosferica qui con noi a 20 miglia Per La Riviera Bene, bene, bene Grazie a tutti Grazie a tutti